...della gazebata del fine settimana scorso abbiamo incontrato il senatore Nunziante Consiglio, con lui un commento a questi primi mesi di presenza in Parlamento del Movimento 5 Stelle. Ascoltiamolo. Senatore, intanto Gioroma, una curiosità, come si muovono i grillini e che impressione le danno? Ma io rispetto la democrazia in modo assoluto, però una considerazione mi sento di farla e volevo su questo fare un inciso. Ieri si è ucciso quel signore che era senza lavoro, che era andato al giorno dopo le elezioni da Grillo a chiedere se gli trovava un posto di lavoro e quant'altro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche per i grillini è raggiunto il momento di capire che con la gente non si scherza, con il lavoro non si scherza, con le promesse non si scherza e bisogna essere estremamente pratici. Uno è andato direttamente da Grillo a chiedere lavoro e uno si è ucciso e si è incendiato. Per cui attenzione, questo lo dico anche ai grillini, è facile fare da palco una commistione tra idee politiche e uno show comico. La pratica di tutti i giorni è tutt'altra cosa. I grillini a Roma non fanno altro che dire di no a tutto, per cui il problema non esiste. Un giorno diranno di no, non so a che cosa, qualsiasi cosa tu gli proponi, loro ti dicono di no. Tu pensi che in Commissione Attività Produttive il primo intervento che c'è stato da parte di un grillino è stato quello che dobbiamo bloccare l'Expo 2015. Questa è sinceramente una presa di posizione che ci lascia alibiti, ma non ci meraviglia per quello e per quanto hanno proposto i grillini in questa campagna elettorale.